Ok Praticamente il tempo tu fai un danno a un campione E dopo un secondo e mezzo la tech speed ti aumenta E ti resta fissa così Invece questa qua, i primi tre attacchi che fai Ah, i primi tre, ok Chi devo bannare? Adi, bravo! Bella Andre, buonasera Ok, c'è qualcun altro di voi oltre Bon e Ricalna Senpai Che oggi ha fatto la prima prova all'esame? Fatecelo sapere in chat, ragazzi Vigane la pizza all'ananas Andre, Andre hai sentito? Tu che sei di Napoli, accetti di sentire queste cose? Lo accetti? Bella, bonghi, buonasera, come stai, bro? Contro Fizz sarà un bel problema Anche perché lui è l'Ignite Quindi io ho preso l'Ignite così mi salto addosso Eh, glielo metto prima io Ecco Guarda, ragazzi ignoranti Hai beccato il mod napoletano E tu a uno di Napoli Non gli puoi dire la pizza con l'ananas Io accetto tutto Dal momento che per quanto mi riguarda Non la mangio E non mi faccio problemi Ma il buon Ricalna Non gli puoi assolutamente dire Quello che hai appena detto Ma proprio nella maniera più assoluta Io l'avevo avvertito Invet Invet vuol dire invade nella sua lingua forse Ah, forse sì Però io stavo mettendo posti settaggi Ma Quali c'è Aclap di schermo È tutto strano Aclap è una schermo bello grande Quanto è Aclap? 27 o di più? Non mi ricordo Magari è il mio che è troppo piccolo E quindi è strano Tu non la vedi da 32? O lo usi come secondo schermo adesso? È secondo schermo Ah, ok Sì perché effettivamente Averlo davanti agli occhi da 32 Non è il massimo Esatto, esatto Va bene, va bene Ok, la barra spazzatrice Ti mette qualcosa di strano Perché in genere Aclap usa la barra spazzatrice Per scopi No, no, mi centra il personaggio Va benissimo È 36 pollici per quello È un po' grande Infatti me lo ricordo Che era parecchio grande Infatti c'era la chat Che era in mezzo Alla schermo Aclap vedi perché porti gli occhiali Non fa bene agli occhi Anch'io usavo una tv Fino a qualche anno fa Però sì Sapendo che fa male agli occhi Ho smesso di usarla Un po' così che finì la sua storia Con la televisione Anch'io usavo una tv Però era vecchia Non era nemmeno in full hd Sì, vabbè Io ho la tv che ogni 30 minuti Mi cambiava In questa situazione È vero Guarda sto pizza Ma i minion da che distanza mi attaccano? Oh, cioè Io ho attaccato Master E E lui ha fatto Ignite Flash Ma forse È top per un motivo È l'elettro per un motivo Perché fa cagare E vabbè Di che Cioè ok che ci stiamo vincendo al silver Ma non è che adesso che Ci si avvicina al silver Oh, io non riesco a beccare pizza Ma sono storto io? Sì, me sì Ok Quel minion lì lo perde Ok Mi ha guardato i minion Vogliamo vedere di che colore sono Non so Sinceramente se prendere O no il Kane sta arrivando mid È boss Mi ha fatto danni la me Kane sta arrivando mid Ok E So che ho subito dei nerf Grazie vi per avermi pingato Che Ok Sono sotto torre Più di così Che cazzo devo fa? Ah, fuck Ok Andiamo via Che cade in pietra Quello lo perde Sì Quel minion lì lo perde È la madonna eterna Che cazzo Schiave È utilizzata per il tubo catodico Ci siamo ammazzati a vicenda Bravi Proprio sangue l'ha preso lui purtroppo Eh vabbè Ce ne faremo una ragione Non so se farmi la goccia sinceramente Perché sì Sfamera umana Però voglio andare proprio full AP Di ignorante Più che altro perché Adesso l'hanno cambiato E non E So che Hanno cambiato un po' tutti gli oggetti AP Non so se mi conviene più fare la doccia Ma chi lo gioca a D La fa però È per altri motivi Perché ne fanno due Ah Tu potresti farla la goccia Non so l'Archangel staff come messa Eh so che adesso dà anche il 20% di cooldown action È molto molto forte Eh sì Infatti ho visto anche delle Orianna usare la goccia Oh beccati sto Electro Cute cazzo Ottimo gank direi Guardali guardali Uno vuoi due Prego prego Tieni Non ho mica paura io Più che altro perché volevo fare la build one shot Non fa Non dà tanto di AP Cioè sì Devi staccare la goccia Boh Adesso va l'hanno al primo back A seconda di quanto Baby Pozza Che mi salvo Mamma mia Non sapevo che non c'era quella cosa Forse No il flash mi è servito Bastava un auto attack da parte sua Usato solo l'ignite però Tank top not damage Sta già vedendo qualcosa di ambiguo nella tua build Ah cavolo Sì sai che ti dico mi faccio così Non sono riuscito a ucciderlo Dai dai Ma perché vi al 3? E che in al 5? La mia ultima lì È rimasta un po' indietro Non penso lo prenderò Però nel caso lo prendessi potrebbe partire un orgasmo Non l'ho preso E vabbè Easy Bella Paolo Buonasera Bella Matt Come state i signori e signori Adesso Alla fine ho preso la goccia Perché effettivamente è parecchio worth Quell'affare lì Novo Arcangeli staff Da tantissime stats Basta Cesare basta Vabbè C'è la parte ok Pensavo arrivasse masterì È lento è lento A filo di troia Prendi questo Prendi lo smite Ecco perché Prendi Ic sd Ma i fizz Sto già capendo Mi ha scritto v morgana Effettivamente era l'oggio Che mi avrebbe fatto sta cosa qua E mi son fatto betare come un coglione E io c'ho la goccia Quindi Non mi ha aiutato minimamente Devo prendermi le scarpe O comunque è incredibile Quanto Fizz sia rotto come sempre Cioè basta la ultima Che fa la combo e muore a prescindere Avanti indietro Mi fai un cazzo Un livello sotto Tira la ultima Combo mori Fine Siamo a solo 100 Cazzo Mirko Cosa faremo Mi sa che chiuderò lo streaming Ci becchiamo domani Raga Va bene Ciao a tutti Ciao Ciao raga Tornerei mai giocare con il main Baldo Se mai avessi voglia di triardare Il che Attualmente è difficile Però Se mi dovessi tornare voglia Ti consiglio di no Io A giro disperato Vabbè gioco col main Pantone adc E quelle cose lì E via Mollo poco e basta Fizz Però so che Le avevano diminuito il cooldown E quello si Io non me ne intendo di Ezra perché non lo uso mai come adc Ah ok Peccato uno dei pochi forti Mi piaceva di più usarlo mid up p Eh vabbè mid up p al so perché Anche di carry è divertente Però mid up p è 50 volte meno Che come di carry preferisco quelli che vanno più per autoattacchi che i caster Ultimo nerf a Ezra è stato il danno sull'alcuno Eh qualcosa li vengono a fare Quello si ma L'ultima patch proprio Io stavo cercando qualcosa di ancora Di indietro Che magari lui si è perso Ah Manca masseri da top Attento Vai questo qua non ha la ulti Non so il cooldown della ulti di Fizz Mi pare che sia abbastanza basso Però per un po' non ce l'ha Ecco ma sei Ma perché? Ti dai o no? No no Perché se no arrivavo di R Non so cosa faccia lì Non lo so nemmeno io È qui che boh Per battare la Fizz Sì esatto Divino l'ex bin 2 adesso Esatto Il tizio sarà lì a flammare Esatto Si staranno pingando Come stanno facendo i nostri compagni adesso Pleasing get back fucking noob Ecco Eh Gliel'ha detto Eh si è fatto rispettare cazzo Il master di boh è tornato top adesso La mia W fa parecchio poco danno Questo è dovuto al fatto che mi sono fatto la goccia Me ne sono già pentito Però Elite Games sarà worth ragazzi Ricordatevi La goccia è sempre worth in late Infatti Oh ma Fizz Attacca cazzo Fai qualcosa Ma porca Vabbè quello non lo fa armi Che ti devo dire Non farmare allora Si ha capito che non deve avvicinarsi evidentemente E io frizzo Ma chi è che hai piazzato la pink nel tribush qua in top? Io no Stai via Addirittura Gentile Questo qua è due volte di fila che mi sa la ulti Molto bene Due fortuna che hanno diminuito l'audio dei ping Quando li fanno dall'altra parte della mappa Se no Stanno flammando Boh io tanto l'ho sempre disattivato l'audio dei ping È una mossa molto furba e intelligente Ma se è andato a rubare il blu di Kane Un po' di Fizz Vabbè Gli lo faccio perdere il carretto Sì Gli l'ho fatto perdere Quanta vita In realtà non tanta Però non penso si avvicinerà più Vediamo un po' se c'è da qualche parte Ok Fizz è andato back Back Cangatemi bastard E ti dicevano da under tank Te lo dicevano da under tank Poi che è successo Gli ho fatto vedere che Non è un tank Vai Gli pusho velocemente Velocemente ovviamente Tra un sacco di virgolette La wave Ezra la P Puscia con una lentezza disumana Lucia di nuovo la ulti Quindi devo stare molto attento Anche se in mezzo 200 minion Diciamo che Non penso faccia più di tanto La goccia ce l'ho già A quasi metà Lì c'è la control Potrò togliere la control effettivamente Me ne sono dimenticata Ma sono cose che capitano Eh sta lì a guardarsi Ma le sono fatto L'arcangelic staff Per adesso Guarda Fizz Ma che cazzo Quella lì ha continuato a regolare Le reportee Cosa ha fatto scusi Eccolo con più farvi di tutta la partita Ah perché sta Perché lo sta fottendo agli altri Giustamente Guardalo lì mid Ok Ok È un po' difficile per me Contra questi due defender Non ti preoccupare Faccio la press tower E poi arrivo Vabbè tranquillo Ho ultato Mio Aia Ma da dove mi ha colpito Quella roba lì Eh solo che in questa Non sono molto d'accordo Claff Claff ha detto che la gente Preferizza per lasciare farm a D Quello che dicevate oggi Ah Non sono d'accordo Non devo lasciare Lo sono anch'io Stanno flammando Sto arrivando Uh Devo farlo più indietro Pensavo continuassero Eh cazzo Ah Preso Bitch Bitch Vai Mi sto affidando Molto molto buono Perché mi finga Perché l'ha rubata la kill È fatto bene Vai Non è tostato Vabbè non avevi il flash Va bene Eh niente Non avevo il flash L'avevo appena usato Era worth rubare la kill A Xayah Ecco Con lì ti ha camminato in faccia Mentre facevi la R Tranquillissimo Con la tranquillità più assoluta Proprio Ma come questa skill Fa danno Ok Oh no devo andare capo Vai È tempo di buildarsi a P qua Tempo iniziare a fare un po' di da Sempre colpa sua Hit rolls È colpa sua Lasciate le kill al tank Quello sa che fa Quale tank? Questo? La street con lo Storm Razor Effettivamente è forte adesso Anche se forse è meglio una botta Alcuno v1 Vedi lo split push è sempre potente Ah no Con il fizzco il cazzo che entro dentro Al bush Vediamo un po' Secondo me dovresti provare la tank Con la black speed è divertentissima Così vedono anche le prospettive di un tank Anche full attack speed Allora ha messo cosa mi conta Un attimo che Sto facendo un po' di casini qua Parisci Lo prendo però Vai che lo prendo Ah baby Oh yes Why? Perché tutti vogliono riportare Lui ha detto E io che riporto Non so Tom Kent Io noob Ci sta trollando Ci sta trollando È un genio del male sto ragazzo qua Bisogna soltanto capirlo Ma come sto stato gentile Ha lasciato il farm a Xayah Bravo Prima che mi riporta anche lei Tutti mi riporta Tutti Vai vai Tiene attack speed Bella attack speed Questo? Mamma mia Piedi sti danni Baby Perché è un heal? Partito un heal Oh ma allora non stai capito Ma allora non stai capito Eh Ma che si fa? Non muore Che non muore Oh ma è muore Oh ma però non ha capito un cazzo Ah mamma mia questa Xayah Mastery Nel frattempo Mastery Report Mastery Andare back? 3 2 1 parte Report Mastery GG cazzo Magari qualcuno si potrebbe chiedere Perché non mi son fatto la Lich Bane Perché ragazzi è ovvio Cioè Rabadon WP la Lich Bane o Rabadon? Io ho detto che mi buildavo a P Rabadon Poi andrò di Lich Bane Se ne avvolgo Come fai a stare tutto sto tempo Al computer E mantenere la vista buona Scusa punteggiatura Anch'io sono delitis E non lo so sinceramente Penso sia Così naturale Boh Sono stato fortunato Io sono diventato mio perché Non giocavo neanche ai videogiochi Quindi Da sempre Ero piccolo Sì Sono cose genetiche più che altro Poi se uno si rovina la vista Perché fa cose strane E altri discorsi Però mi sembra che tu faccia cose strane No Sì per carità sto al computer C'ho le luci puntate negli occhi Eh ma Non sei l'unico insomma No infatti C'è gente molto peggio di me Che nemmeno porta gli occhiali Allora Qua c'è qualche ragazzo Adesso È la madonna Addirittura la ulti Oh che succede lì Oh arrivo 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 Fammi pensare Guarda Eh Eh qua Ho detto Mastery rompere al culo a tutti Io non ho modo di fermarlo Né di salvarmi Ah cazzo Top però Mastery è l'inibitore Eh arrivo arrivo È un buon problema Qua ci vediamo questi Rapport Mastery Fugio È soltanto Se ho build di full up Da di carry ovviamente no Mi pare scontato Ma se riguarda lo stesso Cioè puoi fare tutto quello che vuoi Ma il champion troppo si bilanciato Se non hai nemmeno uno stun È ovvio Certo Poi Xayah È scarsa in culo È quello un'altra cosa È un altro contro Però In linea generale Diciamo che è così Ecco Ho castigato Con la mia lingua Mandami una foto dei piedi Su Instagram Clapperone Che richieste sono Larsi Ti pari fare queste cose? Vai Ho 1400 di mana in più Grazie a sto bagaglio Adesso starò io in top lane tutto il tempo Se no quello lì mi arriva all'inibitor Dopo dicono pure che è colpa mia Esatto Nel dubbio anche è colpa tua Qua c'è gente che si muove verso la top lane Non so cosa che state facendo ma Vi avverto io nel caso Purtroppo non so che cosa fa Sta Kai'Sa Quindi non ci vado un ovunio in faccia Ma quello lì è Mastery Aiuto Minchia che danni di Fab Eh ha critato Con quell'oggettino lì Meno male che abbiamo il tank ragazzi Davvero Meno male Oh oddio Parlo di me Vabbè kill la Braum Non potevo Non potevo Così Oh ma da notare che Né lui né Fizza hanno un assist Incredibile sta cosa Eh a sto punto Stopwatch Che deve fare Aspetterò Ansiosamente Mandi una foto di peli ascellari Ma io non li ho ragazzi I peli ascellari Come faccio I'm waiting Ok Bannate Tam Kench Bella Durbo Da quanto tempo Durbo salti Come stai bro Questa live è croccante Visto? Croccantissima La ulti 84 secondi Solo perché non ho bildato tank Mamma mia Come ti permetti 4 tori Good job In che senso? 5 l'hanno perso Oh cazzo Madonna quanti danni che faccio Nonostante non abbia ancora la lichbane Oh che palle Mastrisco Ma vince così Non è per dire Però sta solo splittando Meno male che ci siete Ecco qua Chi ha più attack speed eh Mastery? Tan Kenchia o te? Non mi ha dato lo shield Morgana O me l'ha dato Troppo tardi Probabilmente Doveva darmelo Prima che mi ultasse Fizz Però Non si può volere Tutto dalla vita Lo stompo Ce l'ho usato Ragazzi Perché ero in 4 Non si era niente Oh Finalmente una bella Ult A far fixare Grazie Signor Tanke Grazie Signor Tanke Meno male che ci abbiamo il tank ragazzi Guarda non saprei cosa Non so davvero cosa avrei potuto fare Senza il top tank Ulti in mid Ecco fatto C'è qualcuno che respawna Vai Fizz Fizz spende la mia ulti Eccola qua E invece no Se sono presi Kaiza E quell'altro barbone Reporti Nel dubbio E lui E lui reporta me Ebbè uno scambio Poveretto Scusa Tutti vogliono riportarlo Come può fare Use script program Gli script degli attacchi base C'era qualcuno In un episodio della scalata Quello che mi accusava di avere Lo script che ti fa Gli auto attack automaticamente C'è gli auto attack sono automatici Ancora più automaticamente Non me lo ricordo Cazzo chi era Sinceramente Ok Cosa posso comprare Ormai non so più che Io push Faccio Il mastery della top lane Push tutto il tempo top Vai vai Bella dischio Andiamo se c'è qualcosa che da attack speed C'è già uno che era lì Che scrive C'è Matteo Hs in live Quelle cose lì Mi raccomando Le regole di Matteo Valgono per tutti Non citate altri streamer Devo metterla come regola della live Ma che è successo? No perché spesso Molti che mi seguono Seguono Matteo Hs Per qualche motivo Che io ancora non comprendo Devono dire Quando Matteo Hs è in live Io c'è nel senso Boh Non lo capirò mai Ti giuro Matteo è l'ultima persona Che vuole che La gente che lo segue Vada a Spammare Nelle altre live Che è live Lo conosco bene Però boh I suoi fan voglio Andare a dire Negli altri stream Che c'è Matteo in live Bisogna saperlo È importante È essenziale È di vitale importanza Nice sky Zero brain Eccomi qua Perché mi pingano di no? Perché no Tu non puoi Vai Sto facendo una parte corretta Oh Ma come l'ho ucciso? Ok Va bene Spero che Ma sorrenda Io non ho fatto un cazzo Sta a vedere Perché ho splittato top tutto il tempo O MFG Ah no Ma arriva Mastri Io me ne vado Ciao Prima voleva riportarmi Eccomi qua No riportarti no Mastri ti voleva riportare Non è andato Eh è sparito Potrò fare più danno C'è qualcuno che responda Kai'Sa vai Aspetta Unlucky GG Un anno e due mesi Poggers De che? Ah Ah sono in prova Incredibile Ho vinto il mio Unlp Io 26 Vediamo il grafico dei danni Eh cazzo Sei primo 3 Ma se avessi partecipato al fight Sarei stato primo io Non ci ho splittato tutto il tempo Va bene va bene Dobbiamo fare la bot Chi cazzo vuole